E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Diregente, la festa di carnevale è una festa che mette tanta allegria. Negli ultimi anni nella Valle Gaudina non era più sentita. Quest'anno l'IC1 ha organizzato questo bellissimo evento. Abbiamo voluto riprendere la tradizione del carnevale. La festa è sicuramente più antica, una festa di origine pagana. Abbiamo messo in campo tutti e tre gli ordini di scuola per dare la possibilità a tutti di stare insieme con le famiglie, con il territorio. E' anche per dare, soprattutto per dare la possibilità ai ragazzini che non si possono permettere di fare feste a pagamento, di farlo con la scuola. Che cos'è il carnevale? Per me il carnevale è un giorno bellissimo perché si festeggia, si gioca e si diverte. Ciao, un settibù!